Ciao bentornati, io sono Jessica e oggi finalmente a grande richiesta e anch'io era da tempo che volevo fare questo video vi parlo di Scratch Junior, quindi la versione pensata per i bambini più piccoli di Scratch come per Scratch infatti questo strumento ci permette di andare a creare le nostre animazioni, le nostre programmazioni animate attraverso appunto un ambiente di programmazione a blocchi a differenza della versione di Scratch normale, diciamo così, i blocchi non hanno al loro interno delle scritte, quindi del testo quindi non devono essere letti, ma hanno soltanto dei simboli, quindi appunto è adatto anche ai bambini più piccoli io di solito lo suggerisco come utilizzo per i bambini dai 4 ai 7 anni Scratch Junior è molto molto interessante perché appunto permette anche ai bambini più piccoli che non sanno leggere di cominciare a creare programmando le loro animazioni e ci permette ovviamente di iniziare a parlare con loro della programmazione, delle basi della programmazione e anche dell'aspetto creativo che porta dietro di sé appunto la programmazione ho deciso di parlarvi di Scratch Junior proprio adesso perché c'è una grande novità è da un po' che Scratch Junior è stato creato e che è disponibile per i dispositivi mobili, quindi in generale per i tablet anche perché con lo smartphone avremmo uno schermino un po' troppo piccolo sia per Android che per iOS, però adesso mi sono decisa a parlarvene perché finalmente è diventato disponibile anche per i Chromebook quindi ovviamente prima era disponibile come applicazione Android quindi potevate scaricarlo anche nei Chromebook che hanno la possibilità appunto di accedere al Play Store adesso addirittura è diventato un'applicazione collegabile a Chrome e al Chromebook quindi disponibile sul Chrome Web Store per dispositivi appunto con sistema operativo Chrome quindi Chromebook e Chrome Tab questo è interessante perché si apre di molto il numero dei dispositivi che possiamo andare ad utilizzare in classe ma anche a casa con Scratch Junior quello che vi consiglio in generale io rispetto a Scratch Junior è di preferire e prediligere dei dispositivi touch proprio perché Scratch Junior è stato pensato per un utilizzo touch e questo tipo di utilizzo ovviamente facilita anche i bambini più piccoli nella creazione delle loro animazioni perché non hanno la necessità di utilizzare il mouse o il touchpad che ovviamente complica un pochino l'utilizzo dei dispositivi e la creazione in generale per i bambini più piccoli ma iniziamo a guardare nel concreto cos'è Scratch Junior e cosa possiamo fare con questo strumento quando apriamo Scratch Junior ci ritroviamo davanti a questa schermata con la casetta al punto di domanda noi andiamo subito sull'ingranaggio per vedere cosa possiamo settare qui possiamo scegliere la lingua per ora è disponibile in inglese o spagnolo in realtà non è dipendente dalla lingua per le ragioni che vi dicevo prima quindi è indifferente in realtà la lingua che andiamo a scegliere poi qui troviamo anche il simbolino del libro che ci permette di accedere a tutte le schede di approfondimento di Scratch Junior qui troviamo le indicazioni quindi le guide per l'interfaccia utente per l'editor grafico e anche per tutti i blocchi che troveremo all'interno di Scratch i blocchi di programmazione sotto il punto di domanda invece troviamo una videoguida di introduzione e anche 8 progetti di esempio che possono essere utilizzati inizialmente come nostre basi di lavoro ma ritorniamo indietro sulla casetta quindi andiamo nella home di Scratch che ci presenta tutti i nostri progetti ovviamente per noi è il primo progetto quindi non vediamo niente in questo caso andiamo sul più per iniziare a creare il nostro primo progetto con Scratch Junior ed ecco qui che si apre la schermata iniziale che presenta già direttamente tutti gli strumenti e le aree che abbiamo a disposizione innanzitutto a sinistra abbiamo l'elenco dei personaggi di default viene inserito il primo personaggio che è il gattino ma ne possiamo aggiungere altri torniamo tra un attimo su questa sezione perché prima vediamo quelle successive al centro della pagina abbiamo l'anteprima di animazione dove vedremo piano piano che si crea la nostra animazione con Scratch il gattino è già inserito al centro perché è già presente appunto come personaggio se lo prendiamo e lo trasciniamo in questo spazio possiamo andare a cambiare la sua posizione sopra la finestra di anteprima troviamo altri simboli il primo è quello che ci riporta la finestra di anteprima a schermo intero quindi la possiamo vedere in grande ritornando indietro abbiamo poi uno strumento importantissimo che è la griglia che ci permette di vedere l'ambiente di anteprima quadrettato ogni colonna di quadretti ed ogni riga di quadretti sono numerate quindi abbiamo le righe da 1 a 15 e le colonne invece di quadretti da 1 a 20 in questo caso come vedete Scratch quindi il gattino è al centro è posizionato all'incrocio tra la colonna 11 e la riga 8 quindi possiamo lavorare anche sulle coordinate questo ci permetterà anche successivamente lo vedremo tra un attimo di gestire meglio il movimento di Scratch il terzo simbolino invece è quello relativo allo sfondo quindi se clicchiamo possiamo andare a scegliere uno degli sfondi che ci vengono messi a disposizione lo possiamo tenere così com'è oppure se andiamo sulla pennetta, sul pennello possiamo andare a modificarlo dal punto di vista grafico quindi ad esempio possiamo modificare i colori oppure andare ad inserire degli elementi nuovi che andiamo proprio a disegnare a mano come vedete anche l'editor grafico è semplicissimo quindi abbiamo tutto a disposizione la tavolozza di colori, gli strumenti e tutti i simbolini ben visibili e quindi anche i bambini più piccoli possono creare in modo molto molto semplice utilizzando direttamente le dita se stiamo utilizzando appunto uno strumento touch quando abbiamo finito con la personalizzazione dello sfondo possiamo andare a selezionare il tick in alto a destra e questo sfondo sarà inserito all'interno della nostra prima pagina come vedete infatti è visibile alle spalle di Scratch di fianco al simbolino dello sfondo abbiamo quello del testo infatti possiamo andare ad aggiungere anche un testo all'interno della nostra pagina che può essere un titolo o un testo generico possiamo inserire all'interno del campo le diverse lettere e qui probabilmente aiuteremo i bambini più piccoli possiamo andare a settare la grandezza e anche il colore del testo e poi possiamo spostare all'interno della lavagna di anteprima lasciamo stare un attimo i successivi due simboli perché li vedremo dopo durante la programmazione a destra abbiamo invece l'elenco delle pagine che compongono la nostra animazione all'interno dell'animazione possiamo inserire fino ad un massimo di 4 pagine quindi un massimo di 4 scene noi adesso stiamo lavorando sulla prima ogni scena avrà i propri protagonisti ed ogni protagonista avrà le proprie programmazioni a proposito di protagonisti e di personaggi torniamo un attimo indietro sul gattino perché adesso che abbiamo visto l'editor sappiamo anche che il gattino può essere personalizzato infatti se premiamo sul pennello di fianco al gattino ecco che ci troviamo all'interno dell'editor che è molto simile a quello per lo sfondo in alto però troviamo il nome del personaggio che possiamo andare a modificare e ad assegnare come preferiamo anche per il personaggio possiamo andare a lavorare dal punto di vista grafico sia andando a cambiare eventualmente il colore delle diverse parti del personaggio sia andando ad inserire degli elementi nuovi attraverso gli strumenti che troviamo sulla sinistra quindi prendiamo ad esempio il tipo di linea o di forma che vogliamo andare ad inserire selezioniamo lo spessore, il colore e poi andiamo a disegnare sul nostro personaggio quando abbiamo finito andiamo a selezionare anche in questo caso la spunta e le modifiche verranno memorizzate e il nostro personaggio verrà modificato ed ecco qui che infatti la nostra gattina è diventata il personaggio principale della nostra storia nella parte bassa invece troviamo tutta la parte dedicata alla programmazione come vedete nella parte bianca c'è il disegno stilizzato del nostro protagonista perché questa sarà la lavagna di programmazione relativa a questo personaggio quando ce ne saranno due tra un attimo poi vedremo anche le differenze i blocchi di programmazione sono divisi per categoria ogni tipologia di blocchi ha un colore specifico adesso sono in primo piano i blocchi di movimento che sono quelli azzurri per utilizzare un blocco ci basterà prenderlo e trascinarlo all'interno dello spazio bianco di programmazione ad esempio prendiamo la freccia in avanti che ci permette di fare dei passi in avanti e la trasciniamo nello spazio bianco se clicchiamo sul numerino che adesso è impostato su 1 compare un tastierino numerico che ci permette di selezionare in questo caso il numero di passi da far fare selezioniamo 5 premiamo sul blocco e vediamo cosa succede la nostra gattina parte dalla colonna numero 3 fa 5 passi in avanti infatti arriva alla colonna numero 8 e si ferma se ripremiamo ecco che fa altri 5 passi in avanti fino alla 13 per tornare indietro possiamo andare a prendere il blocchetto con la freccetta verso sinistra quindi l'indietro oppure possiamo utilizzare sempre il tastierino numerico per andare a scrivere meno 5 in questo caso se vogliamo rendere le cose un po' più complicate e ricliccando sul blocco ecco che il gattino andrà indietro in alto e qui scopriamo la funzione di questo pulsantino troviamo la freccia indietro con la x se lo clicchiamo la gattina, il nostro personaggio e tutto quello che troviamo all'interno della nostra pagina viene riportato alla situazione iniziale di partenza facciamo un'altra prova con un altro blocco di movimento ad esempio uno di rotazione scelgo quello di rotazione in senso orario e ogni volta che clicco come vedete il gattino ruota in senso orario di 30 gradi quindi per fare un giro completo dovremo cliccare 12 volte ma come avete visto per ora i blocchi si sono attivati solo quando io cliccavo direttamente sul singolo blocco ovviamente questa non è una programmazione abbiamo provato e testato soltanto questi piccoli blocchi per creare una vera e propria programmazione dobbiamo mettere una condizione iniziale quindi questi blocchi vengono attivati quando succede qualcosa questi blocchi di condizione iniziale le situazioni le troviamo all'interno della tipologia gialla quindi di colore giallo la selezioniamo quindi e qua troviamo i blocchi che fanno parte di questa tipologia tra questi noi scegliamo adesso per fare una prova la bandierina verde quindi quando viene cliccata la bandierina verde prendiamo il blocco e lo inseriamo all'interno dello spazio bianco a questo blocco dovremo andare ad attaccare quindi ad incastrare tutti i blocchi quindi le azioni che devono essere eseguite quando viene cliccata la bandierina verde noi ad esempio andiamo ad appiccicare il blocco della bandierina verde la freccia in avanti e il ruota quelli che abbiamo appena testato quindi quando si cliccherà sulla bandierina verde andrà in avanti e ruoterà e andiamo a selezionare la bandierina verde ecco qui che il gattino fa 5 passi indietro in realtà perché abbiamo ancora inserito meno 5 e fa una rotazione completa perché fa 12 volte una rotazione di 30 gradi se andiamo a cambiare ad esempio meno 5 e lo riportiamo a 5 riclicchiamo sulla bandierina verde ed ecco qui che farà invece 5 passi in avanti e 12 volte una rotazione di 30 gradi quindi una rotazione completa ma aggiungiamo un piccolo tassello in più perché vogliamo fargli fare questo piccolo balletto più volte quindi fargli ripetere questi due blocchi per più volte per farlo dobbiamo andare invece nella tipologia arancione e andiamo a prendere il ciclo il blocco ciclo quindi se lo posizioniamo in questo modo tra la bandierina e i blocchi da ripetere verranno ripetuti i blocchi che sono dentro al blocchetto arancione per settare il numero di ripetizione andiamo a cliccare sul numerino 4 e andiamo a selezionare noi le ripetizioni che vogliamo fargli fare oppure lo lasciamo come 4 andiamo a selezionare la bandierina verde ed ecco che va avanti e si gira per la prima volta i blocchi che vengono eseguiti hanno un effetto grafico diverso perché è come se fossero premuti mentre vengono eseguiti e intanto per 4 volte il nostro gattino è andato avanti e poi si è girato su se stesso sono tanti altri i blocchi che possiamo andare ad inserire all'interno delle nostre programmazioni ad esempio ci sono quali relativi all'audio quindi possiamo andare anche a registrare l'audio e inserirlo come voce del nostro gattino e anche i blocchi relativi all'aspetto in cui troviamo anche i blocchi di fumetto però visto che questo è soltanto un video di introduzione non mi soffermo su tutti i blocchi se vi interessano alcune situazioni in modo particolare scrivetemelo nei commenti così potremo andare ad approfondire adesso quello che interessa a me è farvi vedere come aggiungere più pagine come aggiungere più personaggi e fare interagire tra di loro i diversi personaggi per aggiungere più pagine andiamo a cliccare il più sotto alla prima pagina ed ecco che si apre la prima pagina bianca come vedete però nella programmazione sparisce quello che abbiamo fatto nella prima scena perché questa è un'altra pagina e anche se andiamo ad inserire lo stesso personaggio dobbiamo andare a creare una nuova programmazione possiamo andare anche ad aggiungere un nuovo personaggio cliccando sempre sul più dei personaggi e andando a sceglierlo all'interno dei personaggi che ci vengono proposti ce ne sono tanti scegliamo quello che ci piace di più ad esempio io scelgo la polipetta ecco qui che viene inserita all'interno della mia animazione la sposto se no va a coprire la gattina come vedete nello spazio di programmazione bianco visto che è stata selezionata la polipetta tra i personaggi abbiamo lo spazio di programmazione della polipetta che è diverso da quello del gattino quindi anche per la polipetta andremo ad inserire i blocchi di programmazione specifici per questo personaggio di questa specifica scena vado a cambiare lo sfondo quindi inserisco i due personaggi all'interno di una cameretta disposto per metterli sul letto e adesso voglio fare in modo che prima salti il gattino in alto e poi quando atterra salta anche la polipetta quindi partiamo dalla gattina andiamo a selezionarla tra i personaggi ed ecco qui che nell'ambiente di programmazione si vede la sua sagoma faccio cominciare l'animazione sempre tutta con la bandierina verde che trovo nella tipologia di blocchi gialli e vado a selezionare la tipologia azzurra blu perché voglio prendere un blocco di programmazione verso l'alto quindi faccio andare la gattina in alto di 5 quadrettini e poi la faccio scendere di altri 5 quadrettini quindi prendo il blocco verso il basso lo imposto su 5 la gattina andrà in alto di 5 quadretti scenderà di 5 quadretti e poi manderà un messaggio alla polipetta per dirle di partire allora per mandare dei messaggi dobbiamo ritornare nei blocchi gialli e qui ci interessa l'ultimo blocco che è quello con la bustina quindi il messaggio appunto con la freccetta possiamo scegliere il colore del messaggio che ci permette soltanto di riconoscerli tra di loro e adesso andiamo a selezionare la polipetta anche qui nella tipologia dei blocchi gialli e selezioniamo a questo punto il blocco sì bustina ma bustina aperta quindi quando ricevi questo messaggio la bustina deve essere quella viola che è quella che avevamo indicato alla fine della programmazione della gattina anche la polipetta dovrà fare 5 passi verso l'alto e 5 passi verso il basso andiamo a selezionare la bandierina verde per vedere cosa succede quindi bandierina verde inizia la gattina farà 5 passi verso l'alto e 5 passi verso il basso invia il messaggio alla polipetta ed ecco che lei parte e fa anche lei 5 passi verso l'alto e 5 passi verso il basso abbiamo finito la nostra animazione non è necessario salvarla perché viene salvata in automatico per vedere tutte le animazioni andiamo a premere sulla casettina e qui vediamo la nostra e tutte le animazioni che abbiamo creato fino a quel momento per entrare selezioniamo un'animazione se vogliamo cambiare il nome andiamo all'interno dell'animazione nell'angolo in alto a destra troviamo un pezzettino giallo selezioniamo e li cambiamo il nome della animazione per riconoscerla dalle altre ecco qui tutto quello che dovete sapere per iniziare ad utilizzare Scratch Junior con i vostri bambini ovviamente questa era soltanto un'infarinatura di base se siete interessati a vedere delle funzioni nello specifico scrivetemelo nei commenti così possiamo continuare ad approfondirlo assieme a me piacerebbe moltissimo perché mi piace veramente tanto come strumento io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video vi do appuntamento qui sul canale a lunedì e giovedì prossimo ciao